L'emergenza coronavirus ci impedisce, ci ha impedito di portare nelle strade, nelle città italiane la giornata e la celebrazione della giornata, ma vogliamo essere vicini comunque alle donne italiane. Per questo abbiamo messo a disposizione e partirà da domani, giornata della celebrazione vera e propria, un numero di telefono gratuito, l'818 94 41. Lo possiamo fare come Ministero grazie alla collaborazione e alla messa a disposizione di risorse e di competenze che ci ha dato, ci ha fornito l'Associazione Italiana delle Donne Medico e la Federazione delle Società Medico-Scientifiche. Questo numero darà una serie di informazioni importanti alle donne. Ovviamente partiremo da uno studio che verrà pubblicato, fatto dall'Istituto Superiore di Sanità, che riguarda proprio l'emergenza coronavirus e che cercherà di capire come ha impattato sulle donne. Quindi si sa che il coronavirus ha un impatto diverso di genere, si dice, cioè diverso, con conseguenze diverse sulla salute delle donne rispetto a quella degli uomini. Ci saranno informazioni, ci sarà la possibilità di mettersi in contatto con 100 donne medico che risponderanno a questo call center. Sul sito saranno pubblicati studi, informazioni che riguardano menopausa, osteoporosi, problemi di salute tipicamente di genere. La medicina di genere deve fare ancora molti passi avanti, ma molte cose importanti a tutela della salute delle donne ci sono già state dette e lì saranno messe a disposizione. Il sistema sanitario nazionale è fatto al 70% da donne che sono infermiere, medico, ostetriche e sono proprio loro quelle più presenti, più attive. In questa giornata non va a loro solo il ringraziamento che ogni anno il Ministero rivolge, va a loro un doppio ringraziamento perché sono moltissime le donne che in prima linea stanno lottando e combattendo per la salute degli italiani contro il coronavirus.